io devo fare con un dita no la ritornavo giornata bellissima anche oggi per la terza ed ultima tappa decisiva del duro costa azzurra ma adesso tutti in pina indiana per l'ultima tappa di montagna siamo a grass dopo esserci persi un po' o meglio io mi sono perso siamo riusciti finalmente a ritrovarci tutti quanti e adesso tappa coca cola perché se non si fa la tappa coca cola non è un tour penso di non aver mai bevuto così tanta coca cola come in questi ultimi due giorni dei gusti coca cola Enelwit e birra questi sono i tre liquidi che io bevo in questi giorni c'è stato subito già un altro passo e quindi ognuno di nuovo è salito con la propria andatura siamo a 1043 metri di altitudine ci sono 23 gradi e mezzo è una zona piuttosto battuta dal sole infatti vedete che è piuttosto brulla e bruciata anche se adesso qua su si sta un po' meglio c'è un po' più di arieta fresca mentre per salire c'è piuttosto caldo qui è giù cristo in spiaggia E finalmente ci siamo, anzi mi sono fatto convincere a far volare il drone Non c'è vento e allora adesso proviamo a farlo volare sopra questo parco qua Chiudiamo qua la giornata di oggi Il giorno numero 3 va in archivio Domani ultima tappa, la sfilata finale del tour della Costa Azzurra Bene, allora dopo questa piccola chicca Chiudiamo qua la terza giornata Un saluto al codino, Nicolino, biscottino E ci vediamo domani, ciao a tutti Ciao a tutti